Musica Grupo THUR Piancuna Vi Sembra di senato che sta benissimo, ma proprio i due figli già qui stanno stimolando per gli stati inferi dei nostri amici. Ecco la signora Leonardo, che chiaramente, essendo una donna, è una donna del sud, anche lui sa continuare, ma è molto bene. Ecco, questo è il momento estraneo, lì vediamo anche il faberone con le arselle, le corse, come potete vedere c'è anche un bel polisazirico, i sospondi purtroppo non mi potete seguire. Il pianto già si è chiesto, si stessa in manchi, l'inguine è il flusso di marina, alle bambore, come le ha ecco. Abbiamo messo una bella bottiglia, il mio friggio del triunfo. Ecco, è bellissima, 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 è bellissima. Amén Lio Amén 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 Im